vado? dai! aspetta di nuovo la devo fare? va bene? no, di nuovo no! ah! 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 ciao aveva proprio ragione tommaso campanella quando diceva gabbia dei marchi è il mondo il mio carro dovrà rappresentare proprio questo il mondo che ci rinchiude e ci sorveglia mette una bella gamba con al centro una donna che si dondola con uno specchio rappresentando la vanità attorno a lei ci faccio un corvo allegoria dell'invidia poi mi piacerebbero delle altre figie per richiamare degli altri vizi capitali un ubriaco una testa d'asino un uomo con la testa di capra e uno scheletro col fratto che richiama il momento mori rimetto un po' fuori un po' dentro la gabbia poi dei satelliti un po' qua un po' là che richiamano l'egemonia mediatica sì sì mi piace ma alla fine chi sono i veri matti quelli dentro o quelli fuori la gamba Aspetta Question Question Assassin